ciao ragazzo le belle come state spero bene allora nuovo video chiacchiericcio di nuovo come state spero bene allora questo è un video dove facciamo letto insieme di nuovo voi direte si e poi innanzitutto nulla stiamo un po insieme tutto lì tanto per parlare un po insieme per sbagliarci un po insieme e poi niente infine vi saluto e sì vi saluto perché per niente così e vi mando a instagram e basta così almeno mi seguite anche di la niente ci vediamo dopo per far letto a dopo e niente allora comunque ragazze dunque fino al vento ho fatto il mio belletto ho messo a porto a posto poi adesso tutto a porsi si va per rire per il partimento non ho fatto altro ho fatto colazione poi sono molto ancora fame ho preso la pastiglia per il mal di stomaco e poi ho mangiato il riso buonissimo tra l'altro molto buono ho preso un caffè ora sto meglio e niente off camera qua tutto poi dopo tutto ciò ho mangiato poi dopo tutto ciò ho preso appunto il caffè non so quanto è molto piropolo la verità e niente tutto qua a posto il riso è questo qui aspetta che vi faccio vedere ve lo giro ecco qua questo qua il riso vedete il riso a insalata che ovviamente non ho messo due delle forzioni molto buono già molto molto buono la camera sta per caviarmi perché è troppo pesante allora ora vi giro qui aspetta che la fanno solo oddio qua già non ho mai faccio vedere i biscotti che ho preso all'euro spin questo dei biscotti che ho preso all'euro spin sono buonissimi sono della dolciando e mi piacciono davvero un botto wow top sono troppo buoni e niente off se ora vi rigiro e niente e niente allora mi sa che è stata disordinata mi ha fatto quello che c'è bene però niente vorrei sedere non lo so neanche cosa faccio adesso quindi nulla cosa dirvi di nuovo nulla ah si sto solo sempre la solta borsa ovvero questa qui questa questa qua vedete bellissima l'adoro mi sta piacendo davvero un casino sto cercando di non far interroppare la registrazione perché se no ho un guaio e nulla questo è la mia borsetta come vi stavo dicendo ieri si è rotta la tracolla ma è un casino a riaggiustarla e io sinceramente non mi va quindi me la tengo così come poi al prossimo anno me ne prendo una nuova di borsa non come questa ma diversa vabbè sempre a tracolla ok e niente qua c'è il mio bel telefonino sono le 11 e 48 non so cosa si vedrà si le 11 e 48 e niente quindi nel frattempo mi sto guardando anche la televisione non so se si vede che si capisce qualcosa non della tele e niente quindi non so cosa dire di qua c'è un tanto la mostra che mi sta perseguitando ma vabbè mi porto appena un caffè quante volte l'ho detto non lo so per dire la verità eccola qua c'è un caffè che ho comprato anzi ha comprato mia nonna e mi è anche strappiaciuto il caffè in questa caffettiera con questa caffettiera molto buono mi sono i piatti a piede lavati si e le pentate a piede lavate niente torniamo in bagno in bagno vabbè poi ci sono i misori di prodotti uno tra l'altro l'ho veneniziato con mia nonna ed è della è molto idratante ed è antitraspirante non so come si dice comunque ci siamo capiti da questo qui questo non si metterà mai a fuoco sto registrando con questa la vedete però non so cosa mette a fuoco ecco qua antitrasparente non so come si dice comunque ci siamo capiti quindi 30 ml di prodotto per un paio di 24 mesi allora abbiamo fatto questi lunghi io tra un po' mi li rifarò e sono bellissimi mi piacciono poi non vedo l'ora di finire questa maschera che ce n'è un casino e capelli sciupati e danneggiati però boh vediamo e niente nulla sto terminando questo shampoo questo scusate questo balsamo qua della e vive di olio straordinario si questo comunque della l'oreal ed è stra buono poi anche ops anche di questa sto terminando la comicella da carnire molto buona e mi sta stra piacendo ops questa casca anche di questo ho terminato il collutorio quasi tanto un verde lo stesso di questo l'ho terminato e anche quasi che sto terminando no anzi ho terminato quel deodorante della dava il cocomero ok oramai ho comprato questo questo mi sta stra piacendo questo qua vedete già niente torniamo alla base e niente noi ci vediamo al prossimo nuovo video ciao